Buon pomeriggio, sono Antonio Camera, uno degli organizzatori di questa eccezionale manifestazione carattere nazionale, il campionato italiano per le società di pesca in appenea. Io rappresento l'associazione Revolution Team Pesca e Appenea di Lamezia Terme, società che ha organizzato per l'appunto il campionato italiano. Oggi si è svolto questa attività agonistica che vede sullo scenario il porto di Tropea, carnieri eccezionali, prede variegate dal Sarago all'Orata alla Spigola, al Serra e quant'altro. Insomma, una gara veramente bella, una gara che non ha avuto alcun tipo di stop per situazioni di forza maggiore. Un mare stupendo, ci ha lasciato svolgere l'attività agonistica in serenità e tranquillità fino alle ore 13, orario ovviamente di conclusione dell'attività sportiva. Detto ciò, ringraziamo ovviamente il comandante della Capitaneria, l'amministratore delegato del porto, il sindaco che ha patrocinato con l'amministrazione questo splendido evento, che per la prima volta abbiamo il piacere di avere in provincia di Vibo Valencia e per la seconda volta in Calabria. Pertanto io concludo questa intervista augurando di riproporre eventi del genere con la speranza che siano sempre più frequenti in Calabria e soprattutto in provincia di Vibo come occorso oggi. Grazie. Grazie.